Ancora polemiche sull'approvazione della delibera che prevede la vendita di parte del patrimonio del Comune di Roma. L'Aula Giulio Cesare ha dato infatti l'ok definitivo alla norma che consente di valorizzare una parte del patrimonio immobiliare del Campidoglio. Insomma, un modo per fare cassa e detta di Marino anche di reinvestire i proventi in manutenzione urbana ed housing sociale. La vendita dei 600 appartamenti e negozi individuati dalla delibera dovrebbe fruttare al Comune circa 300 milioni di euro. Dopo il voto in aula, però, la maggioranza non appare compatta. A causa dell'astensione di Selle non sono infatti mancate le polemiche. È stata una mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi. Bisogna imparare ad essere leali, ha detto il capogruppo PD Fabrizio Panecaldo. Una delibera utile alla città ma che poteva essere migliorata ulteriormente. Gianluca Pecciola, capogruppo di Selle, ha motivato così l'astensione. A proposito di patrimonio pubblico, da giorni si parla di allineazione degli immobili Euro-SPA. La società partecipata dal Ministero del Tesoro e dal Comune di Roma è in gravi difficoltà economiche dopo la malgestione degli anni passati. I dipendenti di Euro-SPA hanno oggi esposto uno striscione su Viale Civiltà del Lavoro, esprimendo la loro contrarietà all'ipotesi di vendita degli immobili di pregio. La cessione di alcuni gioiali di famiglia da parte di Euro-SPA sarebbe un sacrificio necessario per completare l'infinito cantiere della nuvola di Fuxas.